Buongiorno a tutti. Prosegue il ciclo di audizioni sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante resoconto stenografico anche attraverso la trasmissione in diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione essenziali articolo 5,5 del regolamento della Commissione di Marco Esposito e Pino Aprile, i giornalisti e scrittori esperti di meridionalismo sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale. Io ringrazio i nostri ospiti e ricordo che allo svolgimento della relazione potranno seguire eventuali domande da parte dei parlamentari e quindi la replica da parte degli auditi e nel ringraziare gli ospiti per la disponibilità dimostrata cedo la parola in prima battuta a Pino d'Aprile. Grazie. Chiedo scusa io, poi siccome ci sono come sempre delle commissioni, se ovviamente non ci sono problemi da parte dei colleghi, l'idea sarebbe quella di terminare gli interventi e le domande da parte del parlamentare e le risposte per le 9 di questa mattina per dare poi modo ai parlamentari di raggiungere le rispettive commissioni di Camera e Senato. Grazie. Intanto, buongiorno. A Yannis Varoufakis, appena nominato Ministro dell'Economia della Grecia in disastro grazie alle amorevoli cure dell'Unione Europea, il segretario, l'allora segretario di Stato che era stato suo maestro Larry Summers chiese «Yannis, tu come giochi? Ci sono due specie di politici, quelli che giocano dentro e quelli che giocano fuori. Tu dove giochi?» Ecco, non vale solo per i politici. Sul contenuto dell'autonomia differenziata, quello tecnico è stato detto tanto e autorevolmente da esponenti di corte di conti, ufficio parlamentare, del bilancio e persino della Commissione Europea, della Banca d'Italia, della Svimes, dei maggiori costituzionalisti. Quindi mi fermo lì per il contenuto tecnico. Sono tutti eccellenti osservatori che giocano dentro. Nel senso che opere un'istituzione erente la cui esistenza e il cui ruolo concorrono all'equilibrio di poteri e quindi questo pone limiti alla loro intelligenza e non sempre coraggiosa azione sfumandone la forma e talvolta persino la sostanza. Eppure da quasi tutti costoro sul disegno di legge per l'autonomia differenziata è stato detto, è stato chiamato lo Spacca Italia. Persino dal professor Sabino Cassese, presidente della Commissione Calderoli, prima dell'improvvisa e per ora ancora inspiegata conversione, forse sulla via del Quirinale, boh, o anche è stata definita la secessione dei ricchi. Invece a mano a mano che l'entità del saccheggio delle risorse pubbliche da parte delle regioni più ricche tramite l'autonomia differenziata, esaltazione della spesa storica, diviene evidente, sempre più probabile appare invece un sentimento crescente di voglia di secessione da sud per sottrarsi ad una certificazione costituzionale del ruolo di colonia interna del Mezzogiorno d'Italia. Sei anni fa la Lega Nord si limitava a dirlo della secessione senza volerlo davvero, al sud invece questo sentimento indipendentista sorprendentemente fa sempre più proseliti ed è un allarme che non viene raccolto e che riguardi una minoranza in crescita non può essere sottovalutato. Ricorderete che 80 anni fa c'è stata una guerra di secessione fra Sicilia e Italia e che gli iscritti al movimento secessionista siciliano erano quasi mezzo milione, ovvero più di tutti gli iscritti a tutti gli altri partiti messi insieme. Ci sono stati dei morti, c'è stata una battaglia campale, queste cose vengono sottovalutate finché non cominciano, a quel punto è difficile fermarle. Una situazione quindi che specie se alimentata ad arte, su disagi e sentimenti veri, può divenire esplosiva. Io per ruolo e carattere sono un giornalista pensionato e poi il carattere non mi aiuta, quindi posso giocare fuori, non ci girerò attorno. Uno, hanno riflettuto i componenti di questa commissione sulle possibili conseguenze delle ulteriori disuguaglianze che l'autonomia differenziata andrebbe a generare, oltre a esasperare quelle esistenti. L'Italia è già il paese con il divario interno più profondo e duraturo del pianeta. Si chiama questione meridionale. Viene ignorata in Italia, ma ci sono economisti, non di recente, ma che sugli studi meridionalisti hanno preso il premio Nobel, come lo svedese Gunnar Mirdal. Gli economisti studiosi delle disuguaglianze mostrano che quando queste superano il livello 40 della scala del coefficiente di Gini che le misura vengono storicamente ridimensionate con la violenza, terrorismo, sommosse, rivolte, colpi di Stato, scorre il sangue. Chi sottovaluta questo rischio dimentica che tali fenomeni, ripeto, vengono ritenuti irreali finché non si verificano. Ci sono poteri e capitali enormi che aspettano o creano le condizioni di debolezza di alcuni paesi per prenderne le risorse a prezzo di saldo fallimentare. Si sono chiesti i componenti di questa Commissione se e come stiano agendo i potentati sovranazionali interessati a un'Italia frantumata in una ventina di staterelli conflittuali e astiosi che cercano di sottrarsi risorse l'un l'altro? A chi fa comodo l'Italia a pezzi? Ricorderete, e ora tocca all'Italia, si disse dopo la Grecia martirizzata dall'Europa per consegnarne i cocci alla Germania. Si obiettò che la Grecia non ha una vera economia, mentre la nostra è una delle maggiori e più complesse della popolazione italiana, è sei volte quella greca. Quindi da noi non può succedere, vero? Ma l'obiezione non regge più se il blocco Italia viene fatto a pezzetti. Se questo avvenisse e qualcuno ha interesse a favorirlo, poteri sovranazionali sbranerebbero prima il più fragile Sud con partecipazione di avvoltoi nostrani, poi il Nord indebolito dalla perdita del suo primo e quasi esclusivo mercato, il Mezzogiorno, e in più da una conflittualità interna al Nord che riproporrebbe lo schema Nord-Sud attuale dal momento che quattro regioni su otto, Val d'Aosta, Liguria, Trentino Alto Adige e Friuli, ricevono più di quanto versino, quindi sono tecnicamente assistite. Questo lavoro di lobbisti stranieri avviene ovunque, quindi pure da noi non siamo, non possiamo pensare di essere indenni da questi giochi. La neonazista AFD, alternativa per la Germania, per dire, ha visto crescere i suoi consensi sino a divenire il secondo partito tedesco. A stravincerne il congresso furono i più estremisti iperpatrioti, Petr Bistrong e Maximilian Krach. Salvo scoprire, recentissimamente, è questione di poche settimane, che il primo prende i soldi dai russi. La polizia a casa le ha trovato almeno una decina di lingotti d'oro. e li prende tramite il portale Voice of Europe. E il secondo è filo Moscovita anche lui, ma si è scoperto che riceve con regolarità contributi da Pechino. Si chiamano patrioti. I giornali li hanno ribattezzati patrioti, sì, ma degli altri, per dire di come avvengano questi giochi. Perché il Parlamento italiano, quindi, dovrebbe rendersi complice del disegno della distruzione dell'Italia, di quel minimo di coesione nazionale che c'è, perché l'Italia, come abbiamo sotto gli occhi, non è stata mai davvero unita. Molti eletti del Nord ritengono di far così, cioè cercando di trasportare nei loro collegi elettorali la maggiore quantità di risorse possibili, ritengono di fare gli interessi del proprio territorio, inteso come patria contro il paese che si chiama Italia. Quando il ministro Brunetta fu costretto a fare un concorso per assumere 2.400 funzionari a tempo determinato per i comuni del Sud, dove ne mancano 20.000 rispetto al Nord, scrisse una pubblica lettera di scusi ai Veneti, virgolette, respingo con decisione e persino con sdegno l'accusa di essermi trasformato in una sorta di protettore venduto del Sud. Era un ministro della Repubblica e si scusava con i suoi corregionali per aver fatto il suo dovere verso lo Stato e il popolo italiano. Questa è l'idea dominante, purtroppo, del nostro paese. Gli eletti del Sud, invece, normalmente, gestori di un potere subordinato, di fatto coloniale, quasi sempre assecondano le maggioranze di governo che sono quasi sempre antimeridionali, perché questo è il sistema su cui è stato costruito questo paese. E' un sistema che era normalissimo un secolo e mezzo fa, ma con la civiltà industriale, solo che ora siamo in una nuova civiltà, quella informatica. Quindi, concludo. Come stanno operando i lobbisti dei poteri che vogliono fare l'Italia a pezzi, che trovano più conveniente un paese spezzettato per potersene impadronire, almeno per i pezzetti più succosi, più importanti? Io non so se c'è nel Parlamento italiano qualcuno che lo sa e a quale titolo lo sappia. Io posso riferire, come il Parlamento greco, lo posso fare per via della mia attività di giornalista e scrittore. Come il Parlamento greco consegnò il proprio paese agli speculatori tedeschi. Il 2 gennaio 2013, al tavolo di un bar sottiportici, di danza alla stazione centrale di Milano, un imprenditore italiano discuteva con alcuni investitori arabi. Si avvicinò un tale che l'italiano scambiò per un barbone, stava per prendere qualche monetina per dargliela, quando i suoi interlocutori arabi gli chiedono «No, no, ti dispiace accompagnarlo in banca? Lui non ha grande familiarità con la vostra lingua e deve fare un'operazione in banca e quindi avrebbe dei problemi». Per non contraddire i suoi interlocutori, questo imprenditore accompagnò il presunto barbone. E si trovò coinvolto nel trasferimento a Dubai di 270 milioni di euro fascettati Deutsche Bank. Infassidito al ritorno chiese spiegazioni agli arabi «Ma in che storie mi avete infilato?» Gli dissero che quelli erano la seconda parte di 500 milioni di euro, la prima parte era già stata inviata da Parigi, da trasformare in diamanti con cui stavano comprando la maggioranza del voto nel Parlamento greco e il barbone presunto era un sottosegretario del governo greco, il tutto a favore della Germania e ai danni della Grecia. Sul Partenone, questa volta senza i panzer nazisti, è stata rimossa la bandiera greca e sventola quella tedesca. Se la Commissione volesse, potrebbe ascoltare direttamente da questo imprenditore il racconto perché dopo la pubblicazione che ne feci in un mio libro mi disse che avrei potuto riferire il suo nome soltanto se la magistratura o altra istituzione lo avesse chiesto. Questa Commissione si fa domande su chi sta facendo questo tipo di giochi nel nostro Parlamento, nel nostro Paese a danno dell'Italia? Grazie. Proseguiamo. Si è acceso con le nostre audizioni sul federalismo fiscale e darei la parola a Marco Esposito che è collegato con noi. Grazie. Grazie Presidente. Un cenno se si sente bene. Si sente bene, e la ringrazio. Perfetto. Salute deputati, senatori, salute a Pino Aprile, collega e amico. Allora, sul federalismo fiscale oggi proverò a illustrare una cosa che finora in dieci anni di attuazione non è ancora emersa e cioè rispondere alla domanda ma quanto valgono come importo i fabbisogni standard assegnati ai comuni? Sembra strano ma non l'abbiamo mai saputo. Sappiamo le percentuali di riparto tra le varie voci, istruzione, trasporto, illuminazione pubblica, silinido, sociale, eccetera. Però non conosciamo questo importo. È come se dicessimo a una persona ma tu quanto ti costa questa vacanza e lui rispondesse il 20% di trasporto, il 50% d'albergo, il 30% di servizi sulla spiaggia, il 20% regali. Ok, ma quanto ti costa? Possiamo finalmente determinare l'importo. Perché? Perché lo scorso marzo è stata finalmente pubblicata per una sola delle voci, quella dei servizi sociali, il valore. E visto che conosciamo le percentuali siamo in grado per estrapolazione partendo da un singolo comune nel documento che ho consegnato parto dal comune di Roma a calcolare quello che è il fabbisogno effettivo assegnato ai comuni. E questo fabbisogno è di 20 miliardi 522 milioni. Qual è l'informazione, la notizia? Che è di 312 milioni superiore a quella che è la capacità fiscale assegnata ai comuni. E questo è tecnicamente, come dire, costituzionalmente impossibile, assurdo, perché per Costituzione noi dobbiamo coprire integralmente i fabbisogni assegnati e invece i fabbisogni sono superiori alla capacità fiscale. Quindi c'è uno scostamento, vogliamo chiamarlo un buco di 312 milioni nel sistema. Non è tantissimo, è circa l'1,5%, ma comunque segna un'anomalia. In realtà le capacità fiscali dovrebbero essere superiori ai fabbisogni perché poi andrebbero perequati integralmente quelle relative ai fabbisogni standard e parzialmente quelle superiori. Invece siamo al di sotto. È una cosa che si può correggere peraltro senza danni per l'economia, diciamo, per i conti pubblici per Giorgetti perché, come ha ben spiegato in questa commissione Arachi a fine maggio, c'è una serie di trasferimenti statali ai comuni a statuto ordinario che non sono mai entrati nella capacità fiscale e che andrebbero invece non solo inseriti ma anche perequati perché altrimenti si creano delle distorsioni. Quindi, diciamo, si segnala un problema tecnicamente costituzionalmente molto serio che è anche però correggibile e si invita quindi la commissione e il Parlamento a invitare il governo a intervenire in questo senso. Però una volta che sono noti i numeri, appunto i 20 miliardi 522 milioni complessivi, noi possiamo finalmente anche entrare nell'analisi di quello che effettivamente viene assegnato come fabbisogno comune per comune servizio per servizio e quindi verificare quelli che possono essere degli scostamenti rispetto, come dire, al senso di giustizia. Io la relazione l'ho chiamata Don Milani alla rovescia in Alimnod perché Don Milani sappiamo riteneva sbagliato fare parti uguali tra disuguali, quindi odiava l'uguale pro capite, però noi siamo arrivati a una differenziazione che va al contrario del principio di Don Milani, cioè tendenzialmente si assegnano maggiori fabbisogni laddove ci sono maggiori servizi, non maggiori disagi come sarebbe nello spirito appunto di Don Milani. Faccio degli esempi concreti per capirsi, chiaramente si apre un mondo una volta che conosciamo i numeri, mi sono limitato a fare una prima analisi pilota su 20 grandi comuni capoluogo da Roma a Ravenna e sui 20 maggiori comuni non capoluogo, quelli di popolazione tra i 60.000 e i 120.000 abitanti, su due servizi, il trasporto pubblico locale e l'istruzione. Sul trasporto pubblico locale vediamo che ci sono dei comuni non capoluogo del mezzogiorno, sono 5 su 20, che hanno riconosciuto come fabbisogno standard, quindi da garantire assolutamente alla propria popolazione zero. Il più popoloso di tutti è Coregliano-Rossano, che è comune unico dal 2018, è palesemente un comune non solo popoloso, ma sono 74.000 abitanti, ma è un comune sparpagliato, quindi si può immaginare che il trasporto locale sia una necessità e invece siamo di fronte a quota zero. Il massimo tra i comuni non capoluogo è Sesto San Giovanni 30 euro pro capite, segnalo che Sesto San Giovanni riceve come fabbisogno addirittura più del comune di Bari che è a quota 27 euro ed è al centro come è noto di un'area metropolitana, mentre Sesto San Giovanni fa parte di quella di Milano. Quindi ci sono delle anomalie che trovate tutti i numeri nell'allegato al documento che ho consegnato sulle quali mi permetterei di sollevare attenzione. Peraltro sul trasporto pubblico locale manca qualunque forma di asticella alla quale agganciarsi ed è stato sottolineato anche da altri tecnici intervenuti in questa commissione. Sull'istruzione la situazione se possibile è ancora più seria. L'istruzione per i comuni si riferisce solo alla popolazione di 3-14 anni quindi diciamo i bambini dalle materne fino alle scuole medie come si dice ordinariamente e anche qui abbiamo delle differenze molto forti che sono legate sostanzialmente al fatto che il tempo pieno come sappiamo è molto differenziato sul territorio senza che ve ne sia una reale ragione anzi l'assenza di tempo pieno soprattutto nei comuni del mezzogiorno porta a un maggior disagio per le famiglie che si accompagna a un minore tasso di operazione femminile quindi diciamo è un tema non solo di istruzione in senso stretto ma anche un tema sociale però finora come dicevo prima non era possibile dare dei numeri ma solo dei numeri indici assolutamente incomprensibili invece possiamo arrivare finalmente agli euro pro capite e quindi arriviamo ad anomalie del tipo che due comuni tra loro distanti appena una ventina di chilometri come Aprilia e Pomezia nel Lazio hanno un fabbisogno riconosciuto che praticamente è la metà contro il doppio ad Aprilia sono 437 euro per bambino 437 a Pomezia arriviamo a 1092 si giustifica alla Don Milani col fatto che a Pomezia ci sono problemi maggiori è più costoso riscaldare gli edifici penso proprio di no evidentemente stiamo soltanto certificando delle differenze e però qui mi permetto di sottolineare una cosa un conto è statisticamente verificare che c'è un problema ad Aprilia rispetto a Pomezia altra cosa è scrivere come purtroppo facciamo con il federalismo fiscale una regola per cui noi diciamo che il fabbisogno giusto a Pomezia è il doppio di Aprilia ho fatto l'esempio di due comuni vicini con uno scostamento molto forte ma avremo scostamenti simili anche se andiamo a confrontare Reggio Calabria sui 545 euro con Milano i suoi 1118 euro più del doppio è chiaro che stiamo parlando di un servizio di prossimità l'istruzione a livello fino alla scuola media che quindi devi garantire nei centri grandi come nei centri piccoli e non c'è alcuna funzione aggiuntiva che una grande città debba svolgere rispetto a una città diciamo di rango demografico inferiore dovrebbe essere tendenzialmente omogeneo sul territorio o comunque differenziato per ragioni oggettive come può essere una maggiore o minore presenza di disabili un diverso costo di riscaldamento e così via ma chiaramente si evidenziano delle differenze molto forti tra i grandi comuni cito soltanto i primi Roma è a quota 1091 euro Milano l'abbiamo detto 1118 Napoli già si scende a 694 Torino si risale a 965 Genova 951 Bologna 1040 Firenze 922 Bari 618 ancora una volta sembra che la latitudine influenzi quelli che sono i diritti riconosciuti e qui ultima riflessione sulla quale vado a chiudere per lasciare spazio alle domande e vale per l'attuazione del federalismo fiscale vale l'ho accennato bene Pino Aprile per l'autonomia differenziata che non è altro che l'estensione di quello che è accaduto per i comuni nelle regioni a statuto ordinario alle regioni e su molti più servizi rispetto a quelli strettamente comunali e cioè se noi differenziamo i servizi per residenza se noi creiamo un aggancio un legame tra il posto dove vivi e i diritti che ti spettano inevitabilmente spingeremo le persone a trasferirsi cioè visto che la Repubblica dà il segnale che non rimuoverà gli ostacoli le persone tenderanno a muoversi loro e questo in un mondo normale ordinario potrebbe essere anche un fattore di riequilibrio che le persone si spostino verso i luoghi che offrono migliori opportunità è del tutto normale che debbano offrire anche maggiori diritti non è normale ma come dire rientra in questo sistema però noi siamo a un passo dal collasso demografico tema che avete cominciato ad affrontare in questa commissione andare a contare le persone soprattutto nelle aree interne non è più un modo per capire qual è il fabbisogno di quei territori perché visto che le persone sono sempre di meno spaventosamente di meno non si farebbe altro che andare a sopprare risorse a questi territori già fragilissimi accelerando il loro declino anzi il collasso ecco applicare questa cosa anche ai grandi comuni anche alle città cioè entere macro aree il mezzogiorno sostanzialmente significa accelerare i trasferimenti sud nord in una fase che non dobbiamo mai dimenticare è prossima per l'Italia al collasso demografico non come dice l'Istat nel 2080 fa previsioni giustamente molto avanti nel tempo ma vicinissimo a noi nel 2027 noi avremo in Italia più persone di anni 80 che di anni 18 non è mai accaduto nella storia non è mai accaduto in un altro paese sulla faccia della terra più persone di anni 80 non gli ottantenni solo anni 80 che di anni 18 questo significa un paese che non può reggere e che ci costringe a prendere immediatamente delle contromisure quali non è questo il campo sul quale decidere ma senz'altro tra le contromisure c'è correggere immediatamente e rapidamente delle distorsioni come queste che alimentano spingono le persone a cercare come dire certamente non conoscono le tabelle stabilite dalla commissione tecnica fa bisogni standard ma ne intuiscono gli effetti una volta che si guardano attorno e vedono i servizi scolastici vedono i servizi di asilinido vedono i servizi di trasporto pubblico locale i servizi sanitari eccetera 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 differenziare per territorio è una cosa che è ingiusta in assoluto ma che non possiamo permetterci in questa condizione attuale naturalmente resto a disposizione per tutte le spiegazioni tecniche su questa documentazione ripeto sono tutti numeri ufficiali ma per la prima volta sono stati elaborati in questa forma e ci consentono di fare elaborare analisi che in dieci anni di attuazione del federalismo fiscale non erano state possibili una volta che i numeri sono noti certe distorsioni non sono più tollerabili grazie grazie quindi se ci sono dei colleghi che vogliono intervenire lo ricordo sul tema del federalismo fiscale quindi vi chiederei di essere puntuali su questa tematica perché il tempo di esposizione è poco però volevo ringraziare innanzitutto i nostri ospiti oggi prendo spunto dell'ultimo intervento anch'io faccio una domanda quindi l'anticipo mentre ho il microfono e credo che sia molto interessante il tema anche demografico adesso noi abbiamo diciamo guardato il tema prima in dimensione macro adesso diciamo nello specifico credo che sia molto interessante io rivevo da un'esperienza che è quella di Milano dove il tema è che ad esempio il servizio di trasporto pubblico non è calibrato che sapete tutti che è in perdita non è calibrato su 1.300.000 residenti ma è calibrato sui city users che sono molti di più cioè quindi abbiamo 1.300.000 residenti 800.000 utilizzatori che arrivano prevalentemente dall'area metropolitana ma non solo e che si aspettano di trovare nella città dove lavorano evidentemente tutta una serie di servizi che il comune di Milano deve mettere in campo mentre diciamo queste persone poi sono residenti nella città metropolitana o addirittura in regione oppure fuori quindi credo che si va a tenere conto anche di questa cosa negli spostamenti bisogna guardare credo ed è molto interessante la demografia cioè dove ci porta e poi c'è sicuramente il tema della globalizzazione della mobilità delle persone quindi del tema del lavoro perché poi le persone vanno anche dove sono nelle condizioni di produrre un reddito adeguato per se stessi per la propria famiglia e lì poi si aspettano di trovare tutti i servizi considerando anche che c'è una popolazione che contemporaneamente sta invecchiando e quindi cambia costantemente l'esigenza diciamo dei cittadini dei servizi che richiedono perché si passa da famiglie giovani e bambini a persone sempre più anziane quindi con esigenze completamente differenti ho fatto questa domanda quindi chiedo poi ai nostri ospiti se in tal senso ritengano che si possa fare successivamente un approfondimento su queste tematiche quindi quelle legate alla demografia ma anche ai bisogni che porta con sé l'immigrazione quindi il cambiamento anche di cittadini in molti dei nostri territori con bisogni completamente differenti e lascio la parola perché ha chiesto di intervenire alla senatrice Aluisio poi raccolgo tutti gli interventi ovviamente grazie vorrei ringraziare soprattutto specificamente alle due persone audite lo scrittore Pino Aprile che conosco e mi è fatto molto piacere ascoltarle vorrei approfondire tutti quegli aspetti a cui hai fatto riferimento però mi ero preparata una domanda più specifica sulla politica attuale e mi rivolgo a suo avviso quindi le chiedo il PNRR avrà un ruolo per assottigliare questa sperequazione o la sua gestione deficitaria da parte di questo esecutivo incrementerà il gap nord-sud poi l'altra domanda premesso che questo provvedimento rischia di spaccare in due il paese indebolente l'Italia e indirettamente anche il continente europeo a suo avviso che interessi si celano dietro un'Europa debole nello scacchiere mediterraneo poi colgo l'occasione per dire per quanto ha detto il Presidente a proposito dell'emigrazione quindi sarebbe secondo me un aspetto da approfondire in un altro contesto in un altro momento e poi vorrei porre la domanda a proposito dell'emigrazione io non trovo per niente giusto che si debbano assegnare delle diverse somme ai cittadini ai comuni in base alla distribuzione geografica perché ogni luogo ha delle secondo me dovrebbe essere un'assegnazione pro capite per cittadini e questa è la domanda che faccio specificamente al giornalista Marco Esposito perché ogni realtà geografica pone i cittadini da punto di vista antropologico di fronte a delle realtà quindi di vita quotidiana e per cui io penso che ogni essere umano dovrebbe avere la stessa somma assegnata grazie allora il senatore Spagnoli e poi a seguire l'onorevole Guerra grazie 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 presidente grazie ringrazio anche io gli auditi butto sul tavolo brevemente qualche considerazione in primo luogo io vengo dall'Alto Adige quindi sono stato direttamente toccato dalle considerazioni fatte dagli auditi e vorrei precisare che ormai da diverso tempo diversi decenni l'Alto Adige non è più assistito l'Alto Adige riceve cioè utilizza per il proprio bilancio il 90% delle entrate fiscali complessive del proprio territorio e a questo aggiunge il fondo di solidarietà per le altre regioni e un fondo di solidarietà per i comuni delle regioni confinanti per cui non siamo assistiti ma siamo contribuenti netti dopodiché si può discutere se misura sufficiente o meno però ricordo che l'Alto Adige gestisce direttamente competenze che altrove gestisce lo Stato e quindi quello che lo Stato spenderebbe da noi non lo spende e su questo fare conti diventa piuttosto complicato guarda caso nessuno li ha mai fatti e questo anche un pochino mi stupisce ma perché nessuno li ha mai fatti perché vedete io vengo da un territorio storicamente miteleuropeo e la miteleuropa è articolata in regioni con una competenza molto alta su diversi servizi rispetto agli stati cui appartengono i bavaresi sono orgogliosissimi di essere bavaresi ma sono anche tedeschi anche se sono molto diversi dai prussiani e molto diversi dai sassoni i tirolesi sono molto diversi dai viennesi e dagli abitanti della Stire o della Carinzia ma hanno una loro autonomia e si sentono profondamente austriaci allora non è vero che avere una più forte autonomia delle regioni comporta automaticamente che lo Stato si disgrega ci si può benissimo sentire comunque italiani ma come ci si può sentire italiani se lo Stato supera questa sua voler essere un controllore e basta cioè uno che va a guardare come vengono fatte le cose nei diversi territori e permettersi di dire qua va bene qua va male attraverso le sue varie strutture a partire dall'agenzia delle entrate per arrivare alla giustizia eccetera e diventa invece uno stimolatore perché i tedeschi sono orgogliosi di essere tedeschi perché lo Stato fa poche cose ma quelle poche le fa bene da noi invece lo Stato vuole fare tutto e il soltutto non fa tutto bene e allora non ci si sente orgogliosi di essere italiani quando lo Stato non funziona ed è questo secondo me il vero problema del nostro paese che però insiste a voler fare di tutto ovunque da un lato perché questo consente a un certo sistema politico di avere consensi che se no probabilmente non avrebbe pensiamo per esempio alla Sicilia che ha un'autonomia paragonabile a quella dell'Alto Adige però è di fatto perennemente in default e deve continuamente chiedere a Roma sostegni economici extra per poter chiudere i conti ecco questo è un po' il senso delle cose io non mi permetto di sindacare o di discutere su quello che è stato detto qui però mi sento di dire che ci vorrebbe un cambio di passo un cambio di passo che dà alle singole popolazioni delle diverse regioni italiane la capacità di gestire autonomamente i loro servizi in questo modo non ci si arriva in questo modo si continua a dire fate si vi do l'autonomia ma poi io vi controllo per vedere se la fate bene no l'autonomia significa io ti do un totti soldi tu ti devi arrangiare dopodichè vediamo come ti arrangi ma non per poi portartela via ma per poi dire ai tuoi abitanti ragazzi vedete avete una classe politica che non funziona cambiatela grazie grazie onorevole Guerra grazie grazie presidente beh ringrazio anche le uditi però prima di tutto vorrei rivoltermi proprio a lei e alla commissione cioè nel proseguo del nostro lavoro e secondo me noi dobbiamo definire anche meglio i temi di queste audizioni perché i temi che sono sollevati oggi tutti interessanti ed eni però spaziano sull'universo mondo e magari non ci permettono di essere così efficaci rispetto all'oggetto specifico della nostra indagine e mi volevo rivolgere in particolare al dottore Sposito che ringrazio specificamente per l'esercizio chiamo esercizio non in modo limitativo ma che ci ha portato per i dati ecco che ci ha portato le elaborazioni che ha fatto basandosi sui dati ufficiali devo dire che già nelle audizioni che abbiamo svolto questo tema della definizione delle coperture dei fabbisogni sulla base di percentuali e non sul valore pieno era stato sollevato io stesso ho chiesto l'UMI diciamo sia a ANCI che al comitato dei fabbisogni standard adesso mi viene in mente il nome esatto della commissione quindi io prenderei spunto proprio e mi rivolgo ancora una volta al presidente anche prenderei spunto da questa audizione per chiedere alla commissione appunto che elabora fabbisogni standard e capacità fiscali se potesse prendere in esame questa audizione che oggi abbiamo visto e fornirci anche in via ufficiale senza diminuire ma al contrario valorizzando il lavoro che oggi ci è stato presentato questo tipo di valutazione cioè l'incompletezza quanto manca l'esercizio che peraltro è stato già fatto ufficialmente ad esempio per quanto riguarda le province ed ha portato anche a una ridefinizione di quel finanziamento perché lì il tema si era posto in maniera tale da compromettere l'esistenza stessa di quegli enti e quindi questo gap è stato valorizzato proprio in termini di politica e quindi siccome questa è anche la nostra funzione una funzione conoscitiva al fine di fare proposte avere una validazione un completamento delle suggestioni che oggi ci sono venute potrebbe per via ufficiale potrebbe essere assolutamente importante anche e secondo me addirittura prioritariamente al fine di valutare le esigenze di perequazione se facciamo un collegamento fra la discussione che qua dovremmo fare che riguarda l'attuazione del federalismo e invece il tema che non dovremmo discutere ma è inevitabile che discutiamo perché è collegato dell'autonomia differenziata questo punto è un punto particolarmente delicato cioè questo del fatto di essere già in un quadro in cui alcune parti delle funzioni fondamentali che sono comunque l'atto senso considerate LEP non vengono pienamente e integramente finanziate lo dico perché quando andremo a definire quando andranno a definire i organismi preposti le materie leppizzabili e non leppizzabili uso questo bruttissimo termine all'interno delle materie LEP per esempio di istruzione il tema diventerà molto scottante perché alle une quelle leppizzabili deve essere garantito finanziamento integrale e alle altre no allora per esempio il dottore Esposito citava il tempo pieno il tempo pieno non rientra ancora fra i LEP e gli elementi che lui ci ha dato della sua offerta in maniera così differenziata tra regioni e tra territori è un elemento che diventa fondamentale perché se non viene leppizzata quindi non si garantisce un criterio non solo di finanziamento integrale ma c'è di finanziamento integrale in quanto assistito da per equazione noi potremmo trovarci in un meccanismo che attribuendo la spesa storica perché questo è il concetto per le materie non LEP che viene esplicitato dall'isegno di legge Calderoli attribuendo alle regioni la spesa storica attribuiamo fotografiamo e congeliamo una situazione di forte spereguazione non so se mi sono spiegata grazie Caraniello grazie grazie presidente qualche considerazione io ringrazio giornalisti Pino Aprile e Marco Esposito per la disamina puntuale come come sempre ho ascoltato una serie di cose in quest'aula come anche parlare di calo demografico di servizi di trasporti possiamo dire che generalmente il trasporto pubblico è sempre in perdita per esempio a Parigi per compensare le 13 linee di metropolitana annualmente lo Stato mette dei fondi per andare a coprire quelle perdite quindi è una scelta politica che si fa ma se in Molise non abbiamo proprio il treno di quali servizi stiamo parlando chiaramente i responsabili non sono in questa stanza ma sono 150 anni di responsabilità della politica italiana unita che ci porta a dire che sono stati fatti una serie di errori gravissimi abbandonando il sud e andando tutto verso il nord allora se c'è un calo demografico perché c'è un calo demografico se parliamo di federalismo fiscale e contestualmente in aula stiamo discutendo dell'autonomia differenziata cosa succederà se non hanno servizi i nostri giovani se non hanno la possibilità di investire al sud come potranno rimanere dall'Abruzzo alla Sicilia dovranno forse andare nuovamente a Milano forse in Alto Adige forse a Bolzano forse in Emilia Romagna chiaramente questo è un problema serio che ha il sud che non potrà essere abbandonato perché se dobbiamo distribuire fondi sulla base della popolazione ma quei paesi soprattutto quelle delle aree interne vanno sempre di più a desertificarsi non arriveranno più fondi vi faccio un piccolo esempio e vado a chiudere il comune di Doiola un piccolo comune dell'Abruzzo oggi conta 288 abitanti su un'estensione molto vasta il sindaco ha circa 960 ettari di terreno che non sa chi dare che potrebbe dare a qualcuno che decide insomma di andare a vivere lì e fare figli però dovrebbe avere qualche servizio dovrebbe avere qualche possibilità di vita futura cosa che oggi non c'è e annualmente muoiono per anzianità quasi 20 doiolesi e nasce un bambino ogni 3 anni ciò significa che tra quasi 10 anni il comune di Doiola così come tanti altri comuni del sud andranno quindi a desertificarsi a sparire e quindi chiuderanno le scuole forse chiuderanno gli ospedali e quindi tutte queste serie di considerazioni allora la politica italiana tutta se D'Azeglio diceva abbiamo fatto l'Italia dovremmo fare gli italiani cosa che invece ancora a distanza di 150 anni non è stata fatta e c'è un problema serio e non può essere risolta con il federalismo fiscale quando non puoi mandare soldi perché non c'è più nessuno al sud e non puoi basarti sull'autonomia differenziata e a questo punto allora noi ci dobbiamo interrogare noi di questa commissione e ci interregoleremo e ci stiamo interrogando anche in aula cosa possiamo mettere in campo effettivamente per aiutare l'Italia intera perché se muore il sud sicuramente poi il nord avrà meno possibilità allora ragioniamo a 360 gradi ragioniamo come italiani veramente cosa che ancora dopo tanto tempo non siamo riusciti a fare siamo fratelli e allora cerchiamo di aiutarci a vicenda ed eliminare ed eliminare questo muro che nascerà dall'Abruzzo alla Sicilia e dall'Abruzzo insomma a salire questa è una serie di considerazioni che volevo fare e ringrazio nuovamente i giornalisti che sono qui oggi grazie riguardo all'onorevole allora grazie è onorevole Caramiello riguardo all'onorevole la richiesta dell'onorevole Guerra noi ci faremo carico come presidenza delle richieste che ha fatto l'onorevole Guerra io lascerai perché abbiamo sforato con i tempi tempi europei tre minuti per uno se ritengono i nostri ospiti per fare un intervento di conclusivo insomma dando una risposta magari alle domande che hanno fatto se riuscite a stare nei tre minuti grazie partirei ovviamente da Pino Aprile grazie salve rispondo comincio a rispondere alle domande della senatrice Aloiso l'Europa è letteralmente anche se la cosa non viene presentata così terrorizzata dall'esplosione delle disuguaglianze perché? perché tutti gli studi della linea dei studi economici sulle disuguaglianze che è come dire la branca più nuova dicono che l'aumento delle disuguaglianze può far letteralmente disgregare i sistemi sociali per questo dopo il covid l'Europa ha deciso di intervenire per il rilancio del continente facendo una cosa che aveva sempre voluto negare cioè un no soprattutto della Germania terrorizzata dall'inflazione e cioè dei titoli come dire un debito europeo come è stato stabilito quanto per ogni paese per ognuno dei 27 paesi ovviamente ci volevano dei criteri che fossero uguali per tutti e questi criteri sono stati in rapporto alla popolazione e ci siamo voglio dire normale in rapporto alla povertà quindi al reddito medio delle popolazioni è in proporzione inversa al tasso di disoccupazione ora la più grande area europea con i più bassi redditi e il più alto tasso di disoccupazione per via delle politiche discriminatorie di un secolo e mezzo di governi sotto il regno sotto la dittatura e sotto la repubblica da destra di centro di sinistre e tecnici in Europa è il mezzogiorno d'Italia grazie a questo sono arrivati dall'Europa 200 miliardi all'Italia 200 su 800 totali cioè 200 solo all'Italia e 600 per altri 26 paesi fra cui Germania Francia Spagna e via di seguito quindi applicando quei criteri alla ripartizione di quei fondi c'era la formula nel rapporto europeo nel messaggio con cui l'Europa manda questi soldi c'è la formula per la ripartizione dei soldi si mettono i dati disoccupazione reddito popolazione cosa viene fuori che di quei soldi al mezzogiorno doveva andare il 70% aggiuntivi rispetto agli investimenti nazionali di quel 70% il governo Conte annunciò che ne avrebbe dati 50 cioè meno 20 Conte saltò arrivò il governo Draghi che disse che sarebbe stato il 40 ovvero meno 30 poi si scoprì che era il 40 sì ma solo delle somme territorializzabili cioè che significa territorializzabili che si sa dove vanno a finire e si scoprì che nel PNRR venivano dichiarate non territorializzabili delle belle pacottate di miliardi che negli allegati al PNRR era detto che venivano spesi per le ferrovie del nord quindi era il 40% ma solo di una parte il professor Viesti andò a contare quanti soldi poi effettivamente oltre le dichiarazioni della ministra allora Carfagna dei Draghi c'erano e ci trovò il 10 quindi quel PNRR quei soldi inviati all'Italia per abbattere le più gravi disuguaglianze esistenti in Europa e nel mondo ce lo dimentichiamo questo sono usati per aumentare queste disuguaglianze chiudo perché l'Europa e rispondo quindi anche alla seconda domanda perché l'Europa è preoccupata di questo perché l'Europa in quasi tutta la sua storia è stata potente quando ha avuto il dominio del Mediterraneo non dimentichiamo che per otto secoli l'Europa ha fatto guerre per rimandare il potere orientale che si configurava con l'Islam ma poteva essere qualunque altra cosa sulla sponda est e altri due secoli di guerra per impedire alla Russia di affacciarsi in Mediterraneo e quindi mettere piede in un terzo continente l'Africa oltre che Europa e Asia bene oggi l'Europa che nel 1900 aveva la metà della ricchezza di tutto il pianeta e dopo la seconda guerra mondiale ancora aveva un terzo della ricchezza di tutto il pianeta dopo essere stato un gigante economico e un gigante politico è diventato un gigante economico e un nanopolitico oggi è nanopolitico e nano economico per tornare ad avere un ruolo deve avere il Mediterraneo e invece oggi abbiamo di nuovo i turchi a Tripoli i russi per la prima volta nella storia a Tobruk e le rotte commerciali marittime nel Mediterraneo le più intense del mondo sono in mano alla Cina ecco perché ha bisogno di far sviluppare il sud d'Italia l'Europa perché ogni euro investito nel sud d'Italia lo dice la banca d'Italia genera un euro e 41 quel 41 finisce al nord e quindi mette in moto la parte produttiva del nord che è propedeutica a quella tedesca la Germania assembla quello che l'Italia produce quindi se parte il sud parte il nord parte l'Italia parte la Germania se parte la Germania parte l'Europa facendo fallire il PNRR nel sud l'Italia sta distruggendo il piano di rinascita europeo perfetto la ringrazio velocissimo le chiedo scusa a Marco Esposito così poi chiudiamo la commissione per raggiungere le altre commissioni a Montecitorio grazie sì sì ma cerco di essere rapidissimo è evidente a tutti abbiamo parlato quante volte dell'indice di copertura degli asili nido anche voi che se spariscono i bambini e quindi ci troviamo finalmente tanti asili nido non è che abbiamo risolto il problema abbiamo semplicemente creato un problema aggiuntivo la mancanza di bambini ecco perché invito a fare della demografia una variabile oggettiva e invito a riflettere su un dato particolare della demografia che trovate tutti quanti nell'ultimo rapporto Istat uscito dieci giorni fa sulle migrazioni interne e internazionali e in particolare sulle migrazioni di laureati non c'è bisogno di specificare perché siano così importanti ebbene nell'ultima tabella di questo rapporto la trovate facile è evidente che da tutte le regioni italiane compreso l'Alto Adige compreso il Trentino compresa la Lombardia che contiene Milano compresa l'Emilia Romagna siamo in rosso nei confronti con l'estero cioè noi non siamo attrattivi nei confronti del resto del mondo da nessuna regione italiana poi in Lombardia in Emilia Romagna c'è un saldo molto positivo grazie alle migrazioni interne di laureati da sud a nord sono in dieci anni andati via 20.000 laureati dalla Lombardia e dall'Emilia Romagna 20.000 ma ne sono arrivati 100.000 dal mezzogiorno cinque volte di più quindi in un'impresa dell'Emilia Romagna in un'impresa della Lombardia non si avverte il problema della debolezza sui laureati ma come ha ben detto il governatore della Banca d'Italia noi paghiamo poco i nostri laureati ecco perché vanno all'estero e perché li paghiamo poco perché avendo tanti laureati del sud trattati malissimo nel proprio territorio sia per i servizi sia per le occasioni di lavoro questi giovani laureati sono disposti a lavorare a basso costo nelle imprese del nord magari aiutati addirittura dalle loro famiglie e questo rende oggettivamente più debole l'intero paese se non lo comprendiamo qui perché se facciamo le differenze nord-sud non andiamo da nessuna parte ma se non comprendiamo qui che trattare male il mezzogiorno avere un mezzogiorno debole significa che anche il nord Italia apparentemente certo ha gli spostamenti interni ma questi spostamenti interni anche solo per ragioni demografiche si vanno a esaurire e comunque già oggi rendono debole l'intero sistema paese essere in termini relativi in Emilia Romagna contenti di essere meglio della Calabria non aiuta l'Emilia Romagna e la Calabria a essere posti eccellenti in Europa se fosse così arriverebbero dal resto del mondo più laureati anche nella splendida Emilia Romagna quindi apriamo un faro su questo io ho invitato con questi numeri a far sì che la commissione tecnica fa bisogni standard possa fornirvi tutte le indicazioni ufficiali per quanto come ha ben ricordato la senatrice Guerra io su dati ufficiali sono partito ma come dire è sempre un giornalista che lo fa facciamolo fare a un ente ufficiale e rendiamoci conto di quali sono le distorsioni da correggere quanto prima nell'interesse di tutti i territori grazie grazie ringrazio i nostri ospiti e dichiaro chiusi i lavori della commissione grazie 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 grazie